Parola d'ordine, rispettare la tradizione, mettere in tavola quanto serve per festeggiare nel migliore dei modi e mentre mancano pochissime ore alla vigilia di Natale, le famiglie sono alle prese con gli ultimi acquisti, nonostante i rincari. Tant'è che nei supermercati si è registrata tanta gente tra gli scaffali e carrelli pieni. La tradizione vuole che il menù sia a base di pesce, arricchito con insalate di rinforzo, fritture e tanti dolci, dal panettone alla cassata, gli struffare ai mostaccioli. E proprio per orientarsi nella preparazione dei piatti tipici natalizi, sulle modalità di conservazione e smaltimento delle rimanenze, l'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha creato una rubrica, il veterinario a tavola. Piccoli ma importanti consigli per trascorrere serenamente le feste. Per l'insalata di mare, classico antipasto delle festività, acquistiamo pesce presso negozi che garantiscono la provenienza e facciamo attenzione alla stagionalità. E per chi ama frutti di mare crudi, devono essere vivi e vitali al momento dell'acquisto fino al momento del consumo. Per il classico primo piatto degli spaghetti alle vongole, la cottura dei molluschi deve essere di almeno 10 minuti a fuoco lento con il coperchio e quelle rimaste chiuse a fine cottura vanno eliminate. Ma attenzione al momento dell'acquisto, occhi all'etichetta con tutte le caratteristiche di provenienza e modalità di conservazione. Per la frittura di pesce è importante scegliere gli oli con il punto di fumo più elevato e si consiglia l'utilizzo di una frigitrice elettrica. A Natale sulla tavola non può mancare la frutta secca, deve essere riposta in luoghi asciutti. E dulcis in fundo per il dolce con farciture fresche come cassata siciliana, cannoli e pastiere, evitiamo shock termici che potrebbero alterare le proprietà organolettiche dell'alimento. Buon cenone a tutti!